Mimmo fa come se stesse a casa ma si mette a dormire Il viaggio Il viagra Ero rimasto là, capito? Diova è quinta, speriamo Ci sei? Sì Ci sei a casa 12 o 6 Che è la formula del... Della salsa Della salsa Come la comincio? Buonasera Se questo compac show vi è piaciuto, ma non credo però Tu sei stato su una piattaforma digitale E' bellissimo Ma questa è una prova ovale? E' bellissimo